Galeotta, la giornata al mare. Dopo 15 mesi di occupazione abusiva, il mercato di via Carrante di Bari è stato finalmente sgomberato con un blitz dei vigili urbani. Approfittando dell'assenza dei ragazzi che più di un anno fa hanno deciso di appropriarsi della struttura solo perché inutilizzata, gli agenti della Polizia Municipale, accompagnati dal loro comandante Stefano Donati e dell'assessore comunale al bilancio Gianni Giannini, hanno fatto irruzione nell'ex mercato. E tra la sporcizia e il degrado che hanno riscontrato l'allaccio abusivo alla corrente elettrica confermato dagli agenti è stato il male minore. Divani e mobili sporchi e logori, cibo avariato, abbandonato ovunque, anche per terra, per non parlare di escrementi e immondizia presenti in tutta la struttura. Abiti usati, scarpe, biciclette, casse di alimenti, tutto accatastato in una sporcizia in cui si stenta a credere si possa resistere per 15 mesi. Via dunque i lucchetti illeciti alla struttura occupata, da lunedì si provvederà lecitamente a sbarrare i cancelli e fino ad allora il mercato sarà presidiato dalle forze dell'ordine per impedire l'accesso a chiunque. La struttura è stata comunque inserita nel bando del comune per essere affidata alle associazioni. La speranza è che possa davvero conoscere un futuro diverso, viste le tante realtà organizzative in cerca di una sede.